Un giovane Dave Smith, neanche trentenne, decide dopo sette anni di lavoro nell'ambito dell'ingegneria informatica di licenziarsi e puntare tutto sulla sua nuova idea. Un sintetizzatore dotato di memorie programmabili grazie all'utilizzo di microprocessori, il Prophet 5. È stato il primo sint polifonico ad essere considerato degno di competere con lo spessore del sound Moog, grazie alla polifonia abbinata alle memorie programmabili. Binomio che Yamaha era quasi riuscita a raggiungere col suo CS80. Il cuore del Prophet 5 sono due VCO Cartis 3340 intonabili, con 5 voci di polifonia. Le forme d'onda sono triangolare, dente di sega o quadra, con variazioni di simmetria controllabile manualmente o modulabile tramite LFO o Polymod. Il primo oscillatore è dotato della celebre funzione Sync, mentre il secondo è tramutabile in LFO con frequenza indipendente o controllata dal keyboard tracking. Il filtro possiede due chip differenti. L'SSM è utilizzato nei REV 1 e 2, oppure il chip Cartis utilizzato nel REV 3 dal 1980 all'84. È modulabile tramite LFO, inviluppo ADSR o keyboard tracking con due opzioni di intensità. Possiamo utilizzare il Prophet come un potente Synth monofonico grazie al tasto Immunison. Le modulazioni sono versatili, abbiamo un LFO con tre forme d'onda utilizzabili contemporaneamente, il Noise Generator e la Polymod che trasforma l'inviluppo del filtro e l'oscillatore 2 in sorgenti di modulazione. La manopola Vintage replica le imprecisioni di inviluppi e intonazione dei modelli storici. L'amplificatore è dotato di un classico inviluppo ADSR. Sono stati aggiunti Velocity e Aftertouch che ampliano ulteriormente l'espressività dello strumento. 2 in sorgenti di modulazione. 3 in sorgenti di modulazione. 3 in sorgenti di modulazione. 4 in sorgenti di modulazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.